Hanno messo a segno almeno 100 furti tra marzo e ottobre a Pesaro, Fano, Senigallia, Iese e in Vallesina i danni di ditte di autotrasporti, cantieri edili, stazioni di servizio carburanti, officine e autolavaggi. I responsabili, 11 Moldavi, avrebbero agito in sottogruppi di 4-5 alla volta, avvalendosi della conoscenza del territorio maturata da alcuni di loro che da tempo vivono nelle marche. La merce trafugata per un valore complessivo di oltre 70.000 euro sarebbe stata poi rivenduta nella Repubblica Moldava. Le indagini condotte dal nucleo operativo radiomobile di Iesi sotto la guida del comandante della compagnia carabinieri Benedetto Iurlaro proseguono per individuare i canali utilizzati per il contrabbando. Ieri sono state eseguite diverse ordinanze e perquisizioni. Quattro indagati hanno l'obbligo di dimora, tra loro due moldavi residenti a Iesi di 30 e 32 anni. Altri sette sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Le perquisizioni hanno consentito di recuperare varia refurtiva, tra cui due impastatrici per cemento, attrezzatura da carpenteria edile, motori marini, tagliaerba e macchinari di vario tipo. La merce era stoccata in un magazzino apparentemente abbandonato nel territorio di Pesaro e utilizzato dalla banda dopo ogni colpo.